buongiorno e buona giornata a voi tutti cari amici nonostante un po diciamo l'abbacchio sì con le patate no sto scherzando un po di aver preso un attacco influenzale comunque sono con voi seppur diciamo senza solito spirito di simile cioè di positività parliamo oggi del milan per la coppa italia arriverà domani o massimo tra due giorni un video per definire tutti i quarti di finale allora milan spallo io dico questo sì il milan ha vinto 3 a 0 ma bisogna lo so che è difficile per i giocatori ma bisogna far conto come se voglio dire bisogna guardare avanti perché c'è subito l'udinese domenica nell'angio match delle 12 e 30 e l'udinese anche per le per il momento che sta attraversando proprio appunto per la coppa italia per l'uscita della coppa italia sono vorrai farsi comunque torniamo a milan spalle che finita 3 a 0 gol di pionde al vendesimo del primo tempo assist di benaser cartellini gialli al trentatresimo per conte al quarantunesimo per castiglievo che poi tre minuti dopo al quaranta quattresimo ha siglato il momentaneo due a zero con assist di piontec il secondo tempo invece ha visto il gol di teo hernandez per sempre per il milan al 66esimo cartellini gialli anche per la spalla per murgia al 61esimo per rigora al 62esimo per salamona all'ottanta quattresimo cambi tutti nella ripresa suso paghetta e gabbia per il milan salamon valuti e zanchetta per la spalla il successo del milan abbastanza chiamato già dalle quote a 1 e 40 e 45 e 48 andiamo a vedere qualche statistica generale possesso palla 54 a 46 tiri 13 a 6 tiri in porta 8 a 2 tiri fuori 5 a 4 punizioni 17 a 18 calci d'angolo 6 a 1 fuori gioco 4 a 0 parate 2 a 5 falli 13 a 17 cartellini gioco 2 a 3 passaggi completati 286 a 331 attacchi 111 a 109 attacchi pericolosi 48 a 28 adesso il milan se la vedrà contro il torino se non mi sbaglio vediamo un po si se la vedrà contro il torino ma credo che giocherà verso la fine del mese mentre la settimana però settimana prossima i primi due quarti di finale l'altra ancora gli altri due ci vediamo spero domani influenza permettendo per definire tutto il quadro dei quarti di finale quindi come ho detto per il milan mi raccomando cari giocatori rossoneri fate lo so che è difficile fate conto come se se c'è stata questa vittoria è servita però in campionato bisogna continuare a fare punti a fare risultati non sarà né troppo difficile né troppo facile la partita contro l'udinese però non prendete la sottogamma perché insomma è vero che anche una vittoria della coppa italia può portare a un piazzamento europeo automatico però ricordo che viola tenuto a riposo ibraimovic proprio perché lo svedese ha voluto lui stesso dare più spazio agli altri giocatori vedi piondek vedi suso e quindi bene vive il calcio viva lo sport caso specifico forza milan e mi raccomando niente saldi di gioia già perché domenica arriva l'udinese sarà un'altra partita forza milan ciao a tutti e buon pranzo ciao